ok perfetto allora dunque questa lezione, questo incontro insomma è stato ispirato da Rosa che mi ha chiesto durante questa settimana e tutto sommato era anche riuscita a fare un programmino che serviva per costruire dei conigli partendo dalla funzione di Fibonacci quindi in pratica aveva costruito un prim cliccando sul prim veniva chiesta una domanda cioè veniva chiesto un numero questo numero veniva dato in pasto a una funzione di Fibonacci sentite? perché si è bloccato Skype no Skype si si a voi vi sento ma dentro mi sentite? mi sentite? mi sa che invece è Edmondo che si è bloccato eh, però non riesco praticamente più a digitare dentro Edmondo eh, vabbè, vediamo un po' se riesco a fare altre cose mi sa di no, sai? provo a uscire e rientrare in Edmondo crash in arrivo dite che è la sim che sta crashando mi sa che è la registrazione allora esco e rientriamo proviamo una ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, mi sentite di nuovo? Sì. Perfetto. Allora, adesso dovresti di nuovo sentirmi tutti. Mi sentite di nuovo tutti. E io riesco anche a digitare. Allora, dicevo, se io clicco su questo cappello, che magari per fare questo genere di cose lo mettiamo montato nell'altro senso. Questo cappello, tra l'altro, è un oggetto sculpted che ho fatto prima, velocemente. Ecco, qualcuno ha scritto qualcosa, quindi metti un numero dei Facebook in chat. Giuseppina, metti 3 ad esempio in chat. E vedi che lui ha fatto, ha capito che tu hai scritto 3, ha capito che fib di 3 vale 6, adesso non pensate, magari è sbagliata la sequenza di fibonacci, ma era solo per darvi idea. E lui ha rezzato il numero corrispondente di conigli sopra di sé. Quindi sono 2, 4, 6 conigli gli ha rezzati sopra. Gli ho messi in una posizione un po' random, perché così se ne possono mettere tanti, eccetera. Adesso se qualcun altro clicca sul cappello, chi è che si vuole cimentare, vedete, Maria Messere, o un altro, insomma. No, perché te l'ha rubato Maria Messere, quindi Maria devi scrivere tu qualcosa. Quindi l'ultimo che arriva, si è preso, quindi Maria Messere deve digitare il numero. Ok, e fib di 5, nerezza 15. Questo più o meno era tipo a grandi linee quello che volevi fare tu, Rosa. Ok, quindi allora adesso esploriamo bene come fare. Dunque, allora, salto provvisoriamente, io volevo anche farvi vedere, però ci voleva join me anche un po', il meccanismo con cui ho fatto questi conigli. Perché vedete che questi conigli hanno una particolarità, che sono trasparenti. Allora, il fatto di essere trasparenti ha un valore, perché gli danno, anche se sono piatti, no? Visto che si miscelano con l'ambiente in maniera tridimensionale, comunque è un effetto, ciao Angela, è un effetto, diciamo, abbastanza a basso costo, per dare, a basso costo, insomma, ci va relativamente poco. Io per fare questi conigli sono andato semplicemente su Google, ho cercato rabbit o conigli, ho trovato alcune foto di conigli su sfondo bianco, poi ho preso questi conigli e li ho portati su Gimp, e su Gimp c'è uno strumentino, che adesso in italiano non so come si chiama, una specie di penna intelligente, selezione intelligente, che cliccandola sulla parte bianca, mi ha selezionato tutta la parte bianca, l'ho cancellata, e penna magica, perfetto. Allora, la penna magica, cancellandola, cioè praticamente selezionando tutto, quindi semplicemente con questa penna magica sono andato a toccare un punto bianco, lui ha selezionato tutti i punti bianchi vicini, l'ho cancellato, ho dovuto solo aggiungere la trasparenza, l'alpha, come lo chiama Gimp, e a quel punto lì ho ottenuto lo sfondo trasparente. Poi ho fatto l'export in formato TGA, che è un formato second life friendly, e che conserva la trasparenza, e a quel punto lì l'ho importato su second life, adesso non so quanti di voi sappiano fare questo mestiere, questa sequenza di mestieri, dunque tu no, ma tu Patrizia comunque Gimp un po' qualche volta l'hai lanciato in vitratura, o anche Giuseppina, no. Ah, adesso questa non è proprio la lezione di, ma anche su Photoshop funziona uguale, cioè se Gimp e Photoshop sono molto simili, anche se dicono che Photoshop sia un po' più semplice, ma in realtà poi siamo lì, da quelle parti lì, si, Gimp è free, Photoshop è a pagamento e non costa pochissimo. Comunque adesso se ci avanza tempo, poi lo, magari cerco di farvelo di nuovo vedere, magari riproviamo con TeamViewer o altro per vedere questa cosa qua. Allora, prima di tutto, separo un attimo questo coniglio qua, che ho messo per terra, ecco questo coniglio per terra che ho separato, se volete vi invito a prenderlo, basta che facciate una copia, dunque per fare, pronto? Adesso mi sentite? Allora cerco di essere un pochino più lento, così se anche si perde qualcosa, magari mi capite. Allora dicevo, questo coniglio, lo, però non dovete rubarmelo, chi è che me l'ha rubato? Non dovete fare il take, dovete fare il take copy, o il prendi copia, quindi chi me l'ha rubato rimette subito il suo posto. Oh signore, ma chi è che ha il diritto di rubarmi le cose così? Angela. Allora, Angela abbigliato. Dunque adesso, ecco, invece di fare il prendi, dovete andare sulla seconda pagina del menu e fate il prendi copia. E questo è uno dei modi più sicuri per dare un oggetto, abbiamo visto, perché l'altra volta ho provato in altri modi, in OpenSim, per dare un oggetto si fa in questo modo, quindi la prima cosa che dovete imparare è prendere la copia di un oggetto. Siete riusciti tutti a prendere la copia? Sì. Perfetto. Mi dite se l'oggetto è full permission, quello che avete, o vi dà delle... Sì. Allora, dentro questo coniglio c'è anche l'immaginina che ho usato per farlo. Ma soprattutto la cosa che ci tenevo a discutere con voi è lo script che c'è dentro. Se voi aprite lo script, vedete che adesso ci sono 33 righe. L'avete aperto? C'è riuscita ad aprire lo script? Allora, per aprire lo script dovete rezzarlo innanzitutto, la vostra copia del coniglio, se non ce la fate. Una volta che è rezzato davanti a voi, gli fate il tasto destro, andate in Edit, in Modifica, e nell'ultima linguetta, dove c'è scritto Contenuto, Content, dovreste vedere il contenuto e tra cui anche lo script che si chiama rezzer child. Facendo doppio click su questo contenuto, si apre una finestra con lo script. Quindi rezzer child. Siete riusciti tutti a vedere questo script? L'avete rezzato? Qualcuno non ci è riuscito? Sì, questo script in realtà fa anche un'altra cosa in più che ho fatto che metterla... Ah sì, capire è un altro problema di mani. Però adesso discutiamo brevemente, almeno la parte più importante che è quella della... Allora, questo script qua, o script analoghi è questo, vengono messi in tutti gli oggetti che vengono rezzati da un rezzer, perché praticamente quello che stiamo vedendo stasera è un sistema che poi il concetto si... è abbastanza generalizzabile, cioè di rezzer del genere ce ne sono moltissimi nei mondi virtuali, in Second Life, OpenSim, però proprio perché si possono rezzare montagne di oggetti, quindi perdere un po' il controllo, allora ci sono vari sistemi che Rosa aveva sperimentato, aveva provato a fare il coniglio evanescente, nel senso che è un po' come le borse della plastica che si scomparivano da soli, no? Dopo un po', però in quel modo lì non si ha il controllo di quando sparisce, perché voi sapete che i prim si possono fare temporanei, temporanei vuol dire che dopo circa un minuto e mezzo, tu Rosa cosa avevi verificato qualcosa del genere, lo script sparisce, però la quantità di secondi che impiega prima di sparire non è prefissata a priori e non è controllabile, ed è comunque da un lato troppo lunga, perché ci impiega magari troppo, e dall'altro in alcuni casi troppo corta, perché magari uno li vorrebbe in realtà vedere per più tempo. Quindi il sistema migliore è fare un oggetto che si rezza e che poi abbia una specie di backdoor, cioè di un sistema di controllo remoto, che mi consenta di dirgli all'oggetto di sparire all'occorrenza. Allora, questi oggetti sono fatti in modo tale da sparire quando viene detto sul canale 9999 una parolina magica, questa parolina magica è delete, quindi se io adesso nella mia chat, oppure fatelo anche voi, uno di voi, tanto è il primo che lo fa effetto, scrivete barra, cioè la barra sarebbe il tastino sopra il 7, 9999 spazio, uno spazio della barra spezzatrice e poi scrivete delete tutto maiuscolo, delete. Allora, il primo di voi che lo farà, questa cosa, vedrà sparire tutti i conigli che stanno sopra il cappello. Deve fare barra 7, quindi la barra è giusta Giuseppina, però devi poi scrivere 7, no scusa, barra 9999, ecco qualcuno l'ha fatto, adesso non so chi di voi l'abbia fatto, comunque qualcuno l'ha fatto, quindi vedete che i conigli che sono stati rezzati dal cappello sono spariti, i conigli che invece avete rezzato voi dal vostro inventory no, ecco questa è una sofisticazione che ho messo nello script per evitare di rezzare il coniglio e poi di vedermelo sparire quando lo rezzo io, cioè io voglio che sparisca solo se l'ha rezzato il cappello in pratica, no? altrimenti è un prim normale, qui c'è questa importante differenza. Allora, come avete notato quindi questi conigli spariscono quando qualcuno dice sul canale 9999 una certa parolina magica. Allora, come fanno questi, come fa questo signore a sapere qual è questo coniglio a sapere che deve stare in ascolto su un canale 9999? Semplicissimo, all'inizio dello script abbiamo, ve lo scrivo in chat, questo pezzo di codice state entry, lo vedete, e dove dentro c'è scritto ll listen 9999, guarda un po', è proprio il canale che stiamo ascoltando e poi ci sono altri parametri, di cui l'ultimo è appunto delete, cioè vuol dire che risponde soltanto se qualcuno scrive delete, tutto maiuscolo. Gli altri due che vedete, campi, uno è null key che vuol dire che sarebbe la filtratura per avatar, cioè si potrebbe dire ascolta soltanto un avatar se si mette null key vuol dire che ascolta tutti gli avatar, quindi quella è una specie di filtratura, cioè ll listen da una maschera di filtratura e dice solo le cose che soddisfano quella maschera possono essere ascoltate, quindi nella fattispecie dice soltanto le cose 999 con delete vengono ascoltate. Si può fare una filtratura, come dicevo prima, più fine, nel senso solo 9999 del loan dell'oggetto, ad esempio, per evitare che chiunque possa cancellarmi i conigli e poi l'ultimo parametro invece a sinistra, subito dopo il 999, vedete che è una stringa vuota, c'è scritto proprio appice, doppio appice, doppio appice, quello è un nome di oggetto di avatar, quindi voi lì potreste anche scriverci ad esempio Salazar Stenweg o un vostro nome nel vostro avatar e lui filtra per nome se non conoscete e se non siete in grado di dire la chiave, cioè la UID non so se per chi, non so quanti di voi abbiano fatto mai lezione di scripting alcuni ovviamente sì perché sono da anni che sono qua so che Rosa lo conosce benino perché ha fatto un pochino di esperimenti quindi ecco però la cosa fondamentale è che bisogna, cioè per far sì che un oggetto riesca ad ascoltare su un canale, quindi che riesca a eseguire un comando quando viene detto qualcosa occorre prima attivare l'ascolto e questo viene ottenuto da quella famosa funzione ll listen, che viene messa nello state entry, state entry è lo stato che viene eseguito quando il programma viene acceso la prima volta oppure quando viene fatto ripartire, quando gli viene fatto un reset quindi la domanda ovvia è dunque questo pezzettino di codice che abbiamo messo in chat lo comprendete spero nel senso che dice istruisce appunto fai qualcosa quando ricevi sul canale 9999 il canale 9999 abbiamo visto prima si può dare anche un avatar scrivendo in chat la barra e poi un numero di canale e poi spazi e poi qualcosa da dire sul canale altrimenti di solito le cose che vengono detto sui canali vengono dette direttamente dagli script cioè i canali a parte lo zero che è il canale deputato alla chiacchiera fra di noi cioè quando scrivo ciao qua in realtà lo sto scrivendo sul cosiddetto canale pubblico canale pubblico che è lo zero poi ci sono i canali che possono usare gli avatar che sono tutti canali positivi quindi se voi usate i canali positivi allora l'avatar può usarli e poi ci sono tutti i canali negativi che invece possono essere usati soltanto dagli oggetti quindi in realtà è abbastanza complesso abbastanza sofisticato il meccanismo con cui si può parlare e gli oggetti parlano fra di loro almeno per quanto riguarda le listen che non è l'unico modo con cui gli oggetti parlano però è diciamo quello più immediato tanto si parla di parlare ma in realtà si dovrebbe dire chattare perché qui non c'è ovviamente voce qua in volta quindi questi vengono chiamati a volte anche comandi vocali nella documentazione della Linden però vocali nel senso che sono associati a cose dette in chat cioè però in realtà a tutti gli effetti sono delle chat è chiaro fin qua dunque lo state entry la listen dico specialmente per quelli che lo vedono ah tra l'altro per chi non ha mai visto uno script lo script di Second Life è appunto questa entità attiva che regisce degli eventi quindi ogni volta che si tocca il cappello gli si parla o viene resettato eccetera scatta uno degli eventi all'interno di uff scusate ok all'interno di quel famoso default quindi tutti i programmi di Second Life sono tutti fatti in quel modo hanno fondamentalmente una struttura dove c'è scritto default aperta quadra aperta graffa scusate poi c'è una lista di eventi e poi chiusa chiusa graffa questa è la struttura minima dopo di che ogni evento ad esempio c'è l'evento state entry è un evento e che questo scatta ogni volta che l'oggetto viene fatto ripartire un altro evento è la listen che scatta quando sente qualche cosa e questo qualche cosa passa i criteri di filtering di una LL listen e poi ad esempio un'altra cosa importante è il touch che è spesso quindi scatta quando qualcuno tocca l'oggetto ce ne sono moltissimi altri ma questi sono quindi i tre eventi più importanti diciamo state entry listen che abbiamo visto vabbè qui in questo caso in questo scrivere vedete che ce n'è uno ancora aggiuntivo che è l'on-reads che scatta quando l'oggetto viene rezzato però sull'on-reads magari ne parliamo un po' di meno perché è leggermente più avanzato vediamo invece l'evento di listen allora l'evento di listen che è nella riga 17 allora ve lo metto qua vedete ecco qui abbiamo un evento di listen a cui vengono passati nella parentesi tonda un insieme di parametri quindi quando scatta questo evento si sa nel codice noi sappiamo su quale canale è avvenuto cioè chi ha chattato su un canale specifico e questo canale noi possiamo accederci usando il p-channel io l'ho chiamato p-channel questo si può chiamarlo in qualunque modo basta che non si chiami come una variabile un'etichetta predefinita ad esempio non possiamo chiamare integer integer ma dobbiamo dire integer i ad esempio oppure integer channel perché altrimenti si arrabbia tutto quindi praticamente noi definiamo listen integer channel o p-channel in questo caso poi abbiamo riceviamo anche un nome di chi ha sta parlando la sua chiave la sua chiave sarebbe il codice fiscale diciamo il codice univoco che contraddistingue ogni avatar o ogni oggetto in second life e poi la string str che è la cosa che viene effettivamente detta quindi a questo punto dentro la listen uno si domanda che cosa ha ascoltato e su quale canale ha ascoltato perché se è arrivato qualcosa del canale 9999 vedete che viene fatto un if p-channel che è quello che abbiamo ricevuto è uguale uguale cioè uguale uguale vuol dire proprio la definizione di identità booleana cioè viene fatto un controllo se i due parametri alla sinistra e alla destra delle uguale uguale sono uguali e se questo controllo viene verificato allora viene eseguito il blocco che si apre con una parentesi graffa che va bene in questo caso io ho fatto ancora una protezione una guardia per dire faccio l'll die che è quello che lo fa sparire cioè praticamente io avrei potuto semplicemente scrivere questo pezzo di coice poteva essere fatto anche in un modo molto più semplice scrivendo i listen e poi qualunque cosa ascoltava tanto se ho fatto un filtro a monte vuol dire che qui dentro la listen mi arriverà soltanto se ha detto qualcosa sul canale 999 e se ha detto delete quindi io potevo fare anche soltanto questa cosa qua quindi questo programma poteva essere fatto molto molto più corto di come lo vedete qua quindi la modalità proprio più corta in assoluto con cui poteva essere fatto era praticamente questa cioè default scusate allora era default così e poi il minimo era di mettergli uno state entry nello state entry gli mettevate semplicemente nell'l listen sul 999 niente null key e delete al posto di delete potevate anche mettere una frase italiana tipo cancella oppure sparisci qualunque cosa di questo tipo poi chiudevate lo state entry così e poi fatevate il listen integer channel ecco questo dovete sempre metterlo la firma insomma dell'evento deve essere sempre messa quindi listen integer channel string name k id string str questo e poi qui mettevate semplicemente come abbiamo detto prima ll dai chiusa chiusa e poi chiusa aveva comparsa una parenthesis graph aperta in più che non c'entra che è venuta da da chissà dove come vedete quindi questo programmino qua default eccetera diventava molto più corto ma aveva lo stesso effetto per quello che ci interessa a noi invece il pezzo che vedete aggiunto quindi quello onrez eccetera nello script allora nell'onrez gli ho messo una allora l'onrez scatta quando quando questo coniglio viene rezzato e gli viene passato un un parametro da chi lo rezza se lo rezziamo nel nostro invento riscatta lo stesso questo evento però gli viene passato un parametro a zero per dirgli che nessuno l'ha chiamato in questo caso io quando lo rezzo gli do un canale su cui lui ascolta che poi vedremo che sarà il 5555 e lui la cosa che si chiede è se il channel con cui è stato rezzato è zero cioè allora se è zero vuol dire che abbiamo rezzato noi e quindi non dobbiamo fare altre cose se invece è diverso da zero vuol dire che l'ha rezzato il cappello allora se l'ha rezzato il cappello io qui vedete che gli ho messo un altro listen perchè il cappello potrebbe voler parlare con l'oggetto rezzato ma questa è una cosa un pochino avanzata diciamo che tra l'altro non stiamo sfruttando e cosa potrebbe dirgli in realtà il cappello all'oggetto rezzato potrebbe ad esempio dirgli di muoversi verso una posizione più lontana perchè perchè vedremo che quando si fa il rezzo di un oggetto si potrà rezzare degli oggetti soltanto entro 10 metri dal cappello se uno vuole rezzare un oggetto più distante a 10 metri deve fare l'operazione in due pezzi nella prima pezzo lo rezza in una distanza entro i 10 metri e poi cerca di parlare con questo oggetto subito dopo dice dargli istruzione di andarsene in una coordinata specifica adesso nel caso di questi conigli non è necessario perchè tanto basta che li rezziamo lì vicino insomma abbiamo risolto il problema però in casi più complessi potrebbe essere se voi fate dei rezzer ad esempio ci sono dei rezzer in second life che costruiscono intere sim allora questi rezzer cosa fanno? per ogni oggetto che memorizzano dentro dentro il cappello per dire si segnano anche le coordinate in cui devono essere rezzate e poi quando l'oggetto viene rezzato viene poi indirizzato attraverso un ordine gli viene chiesto vai a questa locazione e quindi il coniglio in quel caso si mette corre e infatti nella listen che vedete c'è proprio una cosa simile nel senso che viene preso nel momento in cui si sa che si deve reagire a un comando di quel tipo viene preso il vettore con le coordinate e poi si fa questa funzioncina che cerca di fare un l set pose al punto di destinazione ed avvicinarsi il più possibile finchè non si avvicina una distanza inferiore a 10 cm però diciamo che per quello che vi concerne per rosa credo che sia più che soddisfatta con la versione breve di questo coniglio quello scriptino che ho messo in chat prima quello che fa solo le ldai si sto dicendo che a parte la versione avanzata con la listen eccetera la cosa più più importante dello script è semplicemente il fatto che possa cioè che alla ricezione di un comando il coniglio possa cancellarsi questo ti è chiaro no? e questo lo si fa semplicemente con con una listen e poi cioè e con le ldai un concetto abbastanza semplice ok allora adesso andiamo sul cappello allora il cappello che vedete questo qui che ho fatto un po' goffo in blender prima di di entrare anche questo non fate il prendi fate il prendi copia non si apre la script allora ah no è vero allora aspetta che lo metto let's provate riprovate adesso a prendere una copia dovrebbe avere i permessi giusti adesso lo script per prenderlo fate come avevo insegnato prima col coniglio quindi tasto destro ok allora adesso se voi aprite questo script questo script è questa volta ha una struttura leggermente diversa da prima nel senso che vedete che è fatto praticamente da una serie di sezioni di cui inizia con diciamo la sequenza potrebbe essere questa variabili funzioni e poi c'è il corpo del programma allora il il corpo del programma è della stessa natura che abbiamo visto prima quindi cominciamo a guardare il corpo programma il corpo programma è definito da default graffa eventi quindi lo vedete praticamente partendo dalla riga 8 quindi partiamo a considerare il corpo di questo programma ok allora vedete che negli eventi lì c'è scritto eventi cioè evento 1 evento 2 evento 3 l'evento 1 quello che inizia a riga 10 è uno state entry allora state entry faccio domanda ovviamente di drammatica mi ripetete quando è che scatta lo state entry? lì li chattate in chat ok Roberto lo immaginavo che lo sapeva ma di nuovo vi è entrato vi è entrato in testa quindi che lo state entry è proprio la partenza del programma proprio ciò che viene fatto prima di tutto l'inizializzazione si chiama qui state entry diciamo l'inizializzazione del corpo del programma allora nell'inizializzazione del corpo del programma io ho messo un ll shout adesso voi vi domanderete perchè ho fatto ll shout allora ll shout è una variante di ll6 praticamente quando voi volete far scrivere in chat il vostro script potete usare tre varianti una è ll6 canale e poi apicetti è scritta questo ll6 però viene sentito soltanto alla distanza di chat normale che mi sembra che sia attorno ai 20 metri giusto? vuol dire che se voi parlate a un oggetto che è in listen ma l'oggetto è più distante di 20 metri l'oggetto non vi sente quindi questo è anche un problema quando faccio delle listen una volta non mi rendo conto di essere distante dall'oggetto provo a parlargli e lui non mi risponde ma semplicemente perchè sono lontanuccio allora per ovviare a questo inconveniente si può usare lo shout quindi si può usare ll shout che è un comando che scrive sempre su un canale sempre un qualche cosa però lo urla cioè shout in inglese vuol dire urlare strillare e lo urla tipo megafono e arriva questo chat arriva fino a 96 metri quindi molto di più dei 20 metri quindi tipicamente arriva abbastanza sufficientemente agli oggetti diciamo un po' più anche se sono un po' più distanti poi in realtà c'è ancora un'ulteriore funzione che si chiama ll region 6 canale virgola qualcosa che permette di parlare a qualunque oggetto della della sim indipendentemente della distanza ovviamente però sempre nella stessa sim quindi tenete conto che appunto potete in realtà dialogare far dialogare gli oggetti l'uno con l'altro in realtà poi c'è anche una versione ristretta che è ll whisper canale e poi qualcosa allora questo permette di sussurrare whisper con la r vuol dire sussurrare non so se avete sentito me parlare di horse whisperer l'uomo che sussurrava i cavalli insomma queste cose qua è il è proprio una terminologia inglese allora io qui uso shout per essere sicuro di raggiungere conigli eventualmente lontani no? perché metti che i conigli si siano spostati come vi ho visto prima allora uso shout però se voi siete sicuri che il coniglio è stato rezzato entro i 10 metri lì potreste mettere un ll6 e cosa urlo in realtà nella sim urlo sul canale 9999 e poi gli dico delete quindi quando il cappello viene inizializzato mi dite voi cosa succede? ecco ecco in questo caso spariscono tutti i conigli suppongo quindi se se io ad esempio adesso tocco il mio il mio il mio cappello spariscono anche i conigli degli altri perché? perché tutti i conigli in realtà stanno ascoltando sul stesso canale per evitare questa forma di interferenza ci sono svariati sistemi allora beh 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 il più semplice è quello di mantenere segregati i cappelli l'uno dell'altro quindi a distanze alte e usare non lo shout ma usare la whisper ad esempio se siamo sicuri whisper mi sembra che funzioni solo fino a 10 metri quindi soltanto per gli oggetti abbastanza vicini oppure si possono mettere dei filtri in modo tale che eh gli oggetti ascoltino soltanto il proprio cappello che li ha generati però queste sono sofisticazioni diciamo che se fate un evento eh e se avete tanti di questi listener dovete fare attenzione eh alle interferenze ma non è oggetto di stasera discutere sulle interferenze in particolare quindi adesso volevo vedere supponiamo che non ci siano interferenze anche se stasera in particolare noi saremo pieni perché tutti i cappelli sono qui vicino però avete capito quindi l'effetto di questo shout quindi io ho mandato sul canale 999 una una parola chiave apri di sesamo e l'altro oggetto ha risposto cancellandosi e invece andiamo sull'evento successivo che è il touch start il touch start allora nel touch start lo scrivo in chat qui vediamo che abbiamo eh fondamentalmente che cosa dunque innanzitutto scatta quando viene toccato il cappello prima cosa che fa è nella riga 17 del vostro script fa anche lui un shout 999 per cancellare tutti i conegli diciamo raminghi poi vedete che io ho messo un test ecco questa è una cosa abbastanza importante che stavo cercando di spiegare a Rosa la settimana scorsa ehm ma non c'ero riuscito molto allora vedete che lì c'è un q handle cioè un un gestore insomma di listener cioè praticamente ogni volta che voi fate un ll listen viene creata una struttura dati quindi viene creato proprio un un programma in pratica all'interno di del del simulatore che serve per ehm per cercare su tutto ciò che viene detto nei canali la stringa opportuna detta appunto dall'avatar opportuno e se passa poi lo fa lo passa in gestione alla listen questo vuol dire che più listen attive noi abbiamo e più in realtà lag noi stiamo facendo sulla sim cioè noi abbiamo tanti in termine tecnico sono dei thread che sono attivi cioè sono praticamente delle dei programmi di computer attivati su ogni ll listen capiret adesso in realtà non è proprio proprio esattamente così ma insomma è molto vicino ma giusto per capirsi che ogni volta che si fa un ll listen viene utilizzata una risorsa preziosa del computer quindi l'obiettivo di chi programma in realtà è quello da un lato di ridurre tutti questi processi cioè tutti questi programmi al minimo possibile e dall'altro anche ridurli proprio perché a volte possono fare interferenza cioè ad esempio se voi avete una ll listen attiva soprattutto sul canale 0 questo può essere un problema perché magari per semplicità voi quando toccate il cappello lui vi dice scrivete il numero però scrivere il numero è un discorso però magari voi volete semplicemente dire ciao a un avatar che sta arrivando allora come fa il cappello a distinguere che quello che voi state scrivendo è destinato a lui oppure no mi ricordo che Rosa aveva il grosso problema che anche quando il cappello non era attivato lei diceva ciao e il cappello rispondeva dicendo la successione Fibonacci è 0 no mi confermi? mi senti ancora se sempre è migliorato l'ascolto? ok o mi perdi ancora dei pezzi allora quindi noi dobbiamo avere un sistema e quindi io cerco di insegnarvi anche una buona programmazione degli script per cui voi ogni volta che vi generate un listen soprattutto se questi listen sono generati dinamicamente cioè che vuol dire che chiunque tocca può generare un listen quindi prima vi ho detto ha toccato Maria e poi ha toccato no ha toccato Rosa e poi Maria e io ho detto ha vinto Rosa no Maria scusate perché ha vinto perché non appena ha toccato Maria è stato rimosso il listener associato a Rosa e chi è che l'ha rimosso questa cosa qua proprio quell'istruzione che vedete c'è un QHandle che viene messo al valore del processo che gestisce praticamente guardate la riga 20 vedete che è scritto QHandle e c'è scritto llListen sul canale 0 e poi questo listener è associato al llDetectedKey che è poi la UID codice fiscale dell'avatar che ha cliccato quindi questo QHandle mi tiene mi registra appunto cioè risponde a nel caso di prima la prima volta era segnato che stava rispondendo a Rosa però poi quando ha ritoccato invece subito dopo Maria visto che era già impostato per Rosa e visto che io nella riga 18 gli ho scritto se c'era già qualcuno impostato cancellaglielo questa ovviamente è una scelta del programmatore di funzionare in questo modo cioè per risparmiare handler io tengo solo l'ultimo in teoria si potrebbe anche dire il contrario cioè se mi clicca una persona e se poi me ne clicca un'altra magari io non accetto la seconda che entra quindi posso fare delle strategie per cercare di capire a chi rispondere potrei anche dirgli quando mi ha cliccato Maria avrei potuto dirgli no guarda sono occupato perché sto già occupandomi di Rosa no? insomma cioè le strategie qui possono essere diverse così come nel touch start in teoria lì bisognava anche usare il count perché in teoria si potrebbero toccare contemporaneamente anche due tre quattro cinque persone sul touch start quindi lì dentro la cosa ideale sarebbe stato fare un ciclo for quindi se se count valeva tre vuol dire che c'erano tre avatar che mi stavano toccando e dovevo gestirli tutti e tre invece così facendo in questo modo io sto gestendo soltanto il primo c'è quello zero infatti vedete che c'è ll detected key di zero ll detected name di zero zero vuol dire il primo che ha toccato e gli altri li stiamo di fatto ignorando diciamo che probabilmente statisticamente il fatto che lì in count ci sia più di uno è relativamente raro però nei vostri corsi nei miei corsi nei vostri corsi in realtà questa probabilità aumenta molto perché ci possono essere dei momenti in cui contemporaneamente tanti avatar toccano l'oggetto che oggetto di lezione non so se quello che ho detto vi torna quindi nel touch start la prima cosa che fa è di cancellare i conigli alla riga 17 alla riga 18 va a vedere se c'era già qualcuno che aveva toccato gli cancella il suo listener poi nella riga 19 informa in maniera pubblica dicendo che sta ascoltando sull'avatar detected name quindi detected è chi ha toccato name è il suo nome e poi chiede a chi ha toccato inserisce un numero dopodichè attiva veramente il listener questa risorsa preziosa che abbiamo visto prima ci sono domande rosa su questo comportamento ok allora una volta che lui ha capito che deve ascoltare che c'è un listener attivo quello che parte è poi il listener vero alla riga 22 che poi parte in realtà alla riga 24 quindi nel momento in cui ascolto effettivamente un listener e notate che questo listen a questo punto è stato filtrato quindi non è che tutto ciò che arriva sul canale 0 mi arriva lì alla riga 24 mi arriva soltanto quello che è stato filtrato dalla listen attiva o dalle listen attive perché io potrei anche averne 20 o 30 di listen attive anche se questo programma in realtà come avete visto è fatto in modo tale di averne una e una sola proprio per risparmiare risorse allora quindi la riga 24 la prima cosa che fa è appunto quello di rilasciare la risorsa come saprà Rosa ai tutti i programmatori di questo mondo viene sempre insegnato di rilasciare le risorse il più presto possibile giusto? non so se perché soprattutto una volta era gioco forza no? nel senso che una volta le risorse erano preziose negli anni 70 80 una stampante era preziosissima la memoria era preziosissima il disco era preziosissimo quindi chi si allocava una risorsa doveva poi rilasciarla perché sennò nessun altro poteva lavorare adesso sfortunatamente per i più le risorse sono diventate molto più semplici da ottenere e quindi la cattiva programmazione si è un po' scatenata diciamo che quindi cerchiamo anche noi di rilasciare la risorsa il prima possibile quindi noi abbiamo reagito al abbiamo ascoltato cosa ci aveva da dire Maria che ci aveva detto un numero a quel punto lì non ci interessa più di avere altre informazioni da Maria e quindi togliamo il listener vuol dire che se Maria mi dice ciao quel punto lì o quel ciao lì non lo prendo più dopodichè vedete io faccio di nuovo ancora per l'ennesima volta uno shout 999 delete per cancellare eventuali altri conigli che possono essere stati generati insomma questo qui è un po' un'ipocondria non fidarsi perché dico ma magari qualcuno ha toccato sono comparsi insomma vabbè e poi faccio io vado a vedere n uguale integer di str quindi str mi arriva dalla riga 22 cioè dall'evento ed è la cosa che ha chattato l'avatar sulla sua tastiera e io lo trasformo in integer devo sempre fare questo questo in termini informatici si chiama casting che vuol dire trasformazione cioè trasforma di fatto un tipo cioè mette una cosa che è fatta in un modo la mette in una tipologia diversa quindi nell'informatica le string che sono poi quei caratteri che scrivete in chat non sono la stessa cosa di numero quindi quando voi scrivete cinque voi state digitando un'entità che è un carattere il fatto di trasformare questo carattere in un numero richiede un'attività esplicita del computer e questo viene fatto da quel aperto a parentesi integer chiusa parentesi che ha l'effetto di trasformare la stringa se ci riesce quindi di chiedere al computer di attivare una trasformazione della stringa in numero quindi se voi avete digitato cinque lui allora riesce a capire che quel cinque è proprio il numero integer numero intero cinque se invece voi avete messo una stringa che non è un numero il casting al numero torna a zero ed è questo il motivo per cui Rosa tu quando poi scattava il listener e tu scrivevi ciao lui pensava che tu avessi scritto zero forse l'avevi già capito ok dopodichè proprio per evitare di prendere un'eventuale cosa che non è un numero io qui ho fatto la riga 27 if n vale proprio zero io gli ho messo return in realtà si potrebbe ancora verificare se ha scritto zero e la stringa non è la stringa zero insomma qui si possono fare tutta una serie di trucchi comunque qui ho fatto semplicemente che si può mettere solo da uno in su insomma qualcosa cioè lo zero il ciao praticamente non lo prendo magari la serie di Fibonacci accetta anche zero come input e quindi qui potrebbe non essere la soluzione più felice no? però lì credo che tu riesca poi ad aggiustarti tu insomma nel modificare questo pezzettino quindi o lo togli e quindi accetti anche il ciao e allora ciao viene supposto essere zero oppure lo metti e gli metti invece di mettere così potresti anche scrivere ad esempio if n uguale uguale zero and and perché questo è un linguaggio molto simile a java o c quindi usa proprio gli stessi costrutti quindi if n uguale uguale zero and and str not uguale a zero ecco si potrebbe modificare in questo modo return ve lo scrivo un attimo in chat ok in questo modo praticamente cosa succede? che se lui ha capito zero ma non è stato scritto esplicitamente zero allora vuol dire che ha scritto qualcosa di anomalo se invece passa il return ecco qualcuno qualche tempo fa su open stream ha chiesto il significato del return e qui il return è un concetto che varia a seconda di dove lo si trova no? nel senso che se lo mettiamo nel corpo di un evento così termina l'evento se fosse dentro una funzione non è che termina tutto va torna al chiamante di quella funzione adesso lo vedremo perché c'è proprio anche in questo in questo script c'è anche proprio tutto il discorso delle funzioni appunto la funzione fibonacci infatti poi se vedete la riga 29 vedete che io ho chiamato integer fib uguale fibonacci di n poi tra l'altro questa funzione l'ho scritta in due secondi quindi magari è anche sbagliata ma non è importante tanto se fosse sbagliata poi Rosa la corregge no? si ma avevo visto che ah si devi fare f si dovessi dire f di 0 uguale 1 f di 1 uguale 1 e poi f di n uguale f di n meno 1 più f di n meno 2 certo infatti va bene ma tanto qui il concetto appunto era quello cioè una volta capito come mettere assieme i pezzi poi cosa c'è dentro i pezzi lo potete poi fare a piacimento io ho fatto fibonacci come se fosse una sommatoria no? no insomma poi tutto è giusto allora qui poi faccio l l 6 e gli dico ok dico quanto ha scritto la persona quindi vedete che è scritto l l 6 sul canale 0 e poi dico vabbè il nome della funzione d n dove n lo vado a prendere proprio da quello che ha pronunciato la persona lo ritrasformo in stringa se non lo ritrasformassi in stringa questa cosa mi darebbe errore perché l l 6 vuole soltanto delle stringhe il più fra stringhe suppongo e spero che sia facile da capire con catena delle stringhe quindi aggiunge dei pezzi progressivamente ma tutti i pezzi devono essere stringa e qui bisogna proprio esplicitare la trasformazione da numero a stringa altrimenti da errore quindi dico fib aperta parentesi se uno ha scritto 3 dice fib di 3 vale e poi gli da il valore stringa sempre castato del valore questo l l 6 0 qua può servire sia come debug per vedere se la funzione ha funzionato bene sia anche eventualmente potrebbe essere utile proprio per far vedere a chi ha l'effetto del cappello dal punto di vista testuale che era mi sembra la prima cosa che avevi fatto dopo di che invece noi vogliamo sfruttare i mondi virtuali per quello che possono fare quindi fin qui abbiamo fatto qualcosa che potrebbe fare un qualunque programma basic non so quanti di voi conoscono il programma basic ai miei tempi era una cosa che anche chi non sapeva la programmazione più o meno a scuola gli insegnavano a fare un programmino dove in tre righe si faceva una input di n e poi si faceva un print di un valore che dipendeva da n quindi in realtà fare semplicemente una funzione di un numero è una cosa abbastanza banale però fatto su open sim questa cosa può diventare interessante perché come ha intuito Rosa si può visualizzare la quantità anche per chi non riesce a cogliere il valore proprio testuale della stringa e quindi la visualizzazione era decisa appunto nel proiettare una serie di far uscire dal cappello questi conigli che è anche oltretutto una cosa anche magica quindi c'è anche delle assonanze che possono rendere anche un po' più divertente perché poi anche questo è il discorso dell'uso dei 3D che dovrebbero servire anche a rendere un po' più appetitibili argomenti altrimenti noiosi ok, allora dopodichè invece vedete che noi abbiamo dalla riga 31 alla riga 40 abbiamo il cuore di questa riga qua, di questo pezzo di codice è il force della 35 alla 40 in cui praticamente per ogni elemento di Fib quindi se Fib che è la funzione aveva dato 5 come risultato noi dobbiamo rezzare cioè creare dal nulla 5 oggette quindi dobbiamo ciclare, quindi ripetere per 5 volte la funzione cuore di questo for che è poi un rezzer allora vedete che il rezzer ve lo scrivo qua quindi questo è proprio il cuore, cuore, cuore di questa funzioncina e questo qui è llRezatRoot poi c'è scritto coniglio qui praticamente viene preso un oggetto che è dentro l'inventory del cappello e viene rezzato proprio dove nella posizione indicata da POS eventualmente gli si può dare una velocità quindi l'oggetto può muoversi da solo tipicamente questo veniva spesso usato in Second Life per fare una pistola che sparava cioè un rezzer quindi era di fatto sparare un proiettile giù di lì quindi questo potrebbe anche essere vabbè al di là dello sparare il proiettile ad esempio se voi insegnate fisica o matematica insomma geometria si potrebbe anche usare effettivamente per fare traiettorie balistiche insomma queste cose qua soprattutto se magari sperate degli oggetti fisici che quindi cadono e fanno delle traiettorie ma dunque le vedi nel senso che l'oggetto che butti con quella velocità lo vedi muoversi lungo la traiettoria poi volendo potresti fare in modo di mandarne tanti di oggetti e quindi li vedi uno dopo l'altro e nell'insieme loro dipingono la traiettoria se metti che tu ne fai uscire una dozzina di oggetti magari con un piccolo slip e li fai partire non tutti insieme in modo che non siamo tutti attaccati allora tu probabilmente vedrai veramente la traiettoria ok poi ci sono tutta una serie di sistemi anche ma guardate su queste cose qua su Second Life da dieci anni più o meno di vita che c'ha quasi hanno fatto delle meraviglie in Second Life proprio come visualizzazione eccetera noi siamo un po' alle basi qua però insomma se cominciamo da qui poi volendo si può fare anche altre cose più sofisticate infatti qui c'è da perderci parecchio infatti io non so cioè io personalmente personalmente sono anche contento di vedere le cose più avanzate però sono anche convinto che gli script più semplici sono soprattutto in OpenSim e più c'è qualche speranza di poterli usare e di saperli domare perché i programmi semplici hanno anche meno problemi anche se magari sono meno potenti invece i programmi complicati magari saranno molto belli eccetera però se c'è qualcosa che non va occorre avere gli esperti dietro che te li correggano oppure perderci veramente una valangata di tempo io non è che vi chiedo di perdere giornate mesi di lavoro per imparare tutto però l'idea è che almeno le basi quindi questi concetti per esempio la LL Listen che vi ho fatto vedere prima il fatto che occupi risorse che deve essere rilasciata con un handler questo deve rimanervi un pochino stampato cioè capire cosa fa e perché si usa quando si usa perché quella è la base per far comunicare gli oggetti allora LL RETSAT ROOT che è il comando che avevo detto io uso questo perché in realtà c'è anche un altro comando che è diverso da LL RETSAT ROOT ma questo è più efficace perché RETSAT a partire dalla ROOT dell'oggetto quindi se voi anziché un cappello voi lì aveste un oggetto composto da 25' sapete no? che si possono in Second Life ad esempio se qui fosse un cannone composto da 50' potrebbe essere difficile capire da dove viene generato l'oggetto rezzato il proiettile ad esempio invece usando LL RETSAT ROOT siete sicuri che l'oggetto viene proiettato sul ROOT cioè l'oggetto giallo sapete no? che quando avete un oggetto linkato allora se voi costruite anzi provate anche a farlo l'ho fatto fare anche la volta scorsa no? se voi costruite due o tre cubi provate anche a farlo costruite due o tre cubi ok? ecco io ho costruito questi tre cubi sapete che quando lì cliccate ogni oggetto ha il profilo attorno all'oggetto è giallo questo vuol dire che questi oggetti sono oggetti singoli ora se voi tenete premuto lo SHIFT e cliccate prima un cubo poi un secondo e poi un terzo rimangono tutti e tre gialli ma se fate CTRL L che è il sistema per collegarli assieme link vedete che a quel punto lì di tutti gli oggetti tutti meno uno saranno con il contorno blu o cian non so che colore è comunque a me viene blu tranne uno che rimane giallo che è l'ultimo che avete selezionato allora una volta che avete collegato questi oggetti poi quando li editate li potete muovere e ruotare come se fossero un tutt'uno questi qui sono i cosiddetti oggetti linked set cioè insiemi linkati o insiemi uniti oggetti uniti come a volte vengono parlati ma questi qui sono comodissimi perché qui al posto di esserci tre cubi potrebbero esserci tutte le parti che compongono un cannone ad esempio piuttosto che tutte le parti che compongono una nave o una casa addirittura il limite è di 255 oggetti voi non potete collegare assieme più di 255 oggetti che comunque i 255 oggetti sono già abbastanza direi no? per creare cose complesse o almeno si è dimostrato un limite accettabile ora se voi mettete dentro dentro questo questo oggetto composto da tanti script un rezzer come questo diventa importante poter specificare da dove avviene la generazione degli oggetti se non gli dite niente c'è proprio un comando che si chiama lll-rez-object lll-rez-object funziona come lll-rez-at-root ma genera l'oggetto considerando il punto diciamo medio di tutto il link set cosa che magari non è quello che volete quindi di solito si usa lll-rez-at-root io lo uso sempre perché così qui so che l'oggetto verrà se per caso sono dentro un link set l'oggetto viene generato dentro cioè a partire dall'oggetto che è il root tra l'altro questa cosa qua dellll-rez-root è molto importante perché se voi avete una situazione complicata e volete che che l'oggetto venga rezzato lungo una certa direzione che però questa direzione non è rappresentata da nessun elemento del vostro link set si può sempre aggiungere un cubo trasparente e linkarlo insieme a tutti gli altri come ultimo questo diventa l'oggetto che funge da direttore del link set e che è addirittura trasparente quindi non disturbo non viene visto però dà la direzione del link set non so se è stato chiaro rosa sul perché si adesso negli esempi che stiamo facendo noi questo magari non è importante però magari tra un po' potrebbe esserti già utile tra l'altro notate subito che se io questo oggetto l'ho no aspetta qui se lo rezzo si lo rezzo a partire dal centro di questo oggetto no niente facciamo perdere quindi allora il discorso del vector dell'LL rezzat root ah no ecco una cosa importante che ad esempio rosa non aveva colto è che il coniglio che è scritto almeno la primissima volta che l'aveva fatto ha avuto un attimo di incertezza è che il nome dell'oggetto cioè l'inventory non è l'inventory vostro ma è l'inventory di questo cappello o del rezzer quindi voi per rezzare qualcosa dovete mettere dentro il contenuto del cappello quello che volete rezzare quindi tipicamente vedete che se voi aprite vedete che dentro il cappello c'è coniglio oltretutto coniglio deve essere scritto esattamente come poi lo andate a indirizzare e dovete evitare di avere di sbagliare le minuscole e addirittura a volte anche gli spazi in testa in coda che non si vedono quindi sono pericolosissimi cioè se voi rinominate coniglio e lo chiamate coniglio spazio lui lo lo fa e poi quando lo tocca vedete che inserisce un numero io gli dico due e in questo caso ce l'ha anche fatto quindi forse hanno corretto questo bacco però c'è stato un momento in cui mi sembra che abbia rezzato quindi l'ha fatto però comunque in ogni caso fate sempre attenzione che il il modo in cui viene chiamato coincide con quello soprattutto minuscole e maiuscole oppure trattini bassi trattini insomma devono essere proprio quelli cioè il computer è stupido e non riesce a capire che se voi avete scritto coniglio 1 e poi l'avete chiamato per errore come coniglio trattino 1 oppure avete scritto coniglio 1 per lui sono tre cose diverse o addirittura peggio potreste chiamarla coniglio spazio 1 quindi deve essere proprio identico poi posizione velocità e rotazione sono adesso non sto a discutere il significato di cosa sono perché è abbastanza ovvio vedremo eventualmente come vengono costruite nel senso che la velocità vedete che la riga 32 viene impostata allo zero vector zero vector vuol dire che sono fermi ma se noi ad esempio invece di mettere zero vector gli mettiamo un'accelerazione verso l'alto quindi mettiamo ad esempio 0 0 e 0.1 una velocità verso l'alto quindi io riscrivo ad esempio il mio programma in questo modo vedete che all'inizio gli ho messo invece che vector val invece di mettergli zero rotation gli metto 0 0.1 allora in teoria vediamo un po' se funziona se io gli faccio rizzare un po' di di cose dovrebbero muoversi invece non si muova può darsi che ci sia un problema qui e non lo fa aspetta proviamo a metterci un pochino di velocità maggiore dunque touch mettiamo 3 niente non funziona pazienza avrebbe dovuto muoversi con quella velocità provo cose in second life perché sono sicuro che in second life questa cosa la rispetta di mettersi una velocità e ma gli ho messo uno adesso quindi dovrebbe essere un metro al secondo sì adesso gli ho messo uno e non accenna a vederlo quindi eventualmente questo lo si può fare come un comando che gli si dà il coniglio di muoversi con una certa velocità oppure magari funziona soltanto per i fisici va a sapere insomma qui ci sono a volte dei cose da no invece la cosa interessante che io ho fatto vedete che ho messo la posizione e l'ho messo in un posto casuale poi vabbè lì va anche va anche a gusti nel senso che io l'ho messo in casuale perché così li mette casualmente magari a alcuni gli piace credo che a Rosa forse gli piace di più vederli uno sopra l'altro però il problema di metterli uno sopra l'altro è che se poi vanno troppo alto quindi a più di 10 metri no? poi dopo non si accatastono in fondo perché non possono andare oltre i 10 metri a meno di non fare quel trucco di farli muovere autonomamente vedete che gli ho messo il vettore di posizione l'ho messo uguale a ll get pause quindi cioè voi dovete sempre rezzare partendo dalla posizione attuale del rezzer e poi da quella posizione gli aggiungete un vettore dove c'è il spostamento rispetto alla x alla y e alla z quindi x è sinistra a destra no aspetta x no è avanti dietro la y è sinistra a destra e la z è ovviamente alto e basso qui vedete che gli ho messo un numero casuale compreso tra 0 e 1 qui gli ho tolto a meno 0,5 in modo tale da metterlo anche negativo cioè questo questo piccolo calcolo serve per metterlo più o meno in una in una specie di cerchio alla stessa altezza del cilindro c'è la x e la y le ho messe praticamente se x0 e y0 sono le coordinate del cilindro le voglio mettere x0 più o meno un certo differenziale e y0 più o meno un certo differenziale in questo modo vengono disposte lungo un quadrato forse più che un cerchio un quadrato attorno al casualmente quindi tendenzialmente un quadrato però possono essere messi in qualche cosa e invece la z l'ho messa semplicemente lfrande 2 quindi sempre più alta del cappello in modo tale che siano sempre sopra il cappello perché se fossero sotto il cappello andrebbero sotto terra ed è brutto insomma però a parte questo tutto il resto diciamo che dovrebbe essere risolto questo è più o meno l'argomento della serata vi piacciono i coniglietti? tra l'altro i conigli vedete che ecco un'altra cosa che i conigli che vengono rizzati vedete che non sono luminosi come quello che vi ho dato perché quando l'avevo fatto inizialmente non l'avevo fatto luminoso quindi se voi volete correggere questa cosa dovete prendere il coniglio che volete che sia rizzato toglia dal cappello modificarlo fare il prendi per metterlo nel vostro inventory poi cancellare il coniglio precedente del cappello e rimetterci il vostro quindi tutto un giro dell'oca che mi ricordo che quando io avevo cominciato a programmare e a buildare in second life mi aveva lasciato un attimino stremato perché ad esempio per costruire qualcosa bisognava fare tutto il giro dell'inventory e dicevo ma che porcheria è questa? perché in effetti è un pochino lunghetto quindi bisogna poi però mi sa che voi un pochino dovreste averlo già visto no? questo sistema si? si? mi senti? si? ti sento ma tu non mi senti allora hai parlato? si si stavo parlando stavo dicendo che tutto il giro del gioco dell'oca di mettere nell'inventory rezzare prendere cancellare eccetera eccetera mi era sempre sembrato un po' ostico no? di questo mondo però bisogna farsi un po' il insomma l'abitudine e poi alla fine insomma poi funziona insomma insomma si riescono a fare delle belle cose a costo anche di spendere un po' di tempo allora parte rosa anzi rosa mi hai detto quindi che ti ha soddisfatto la spiegazione di questo cilindro per gli altri è stato di qualche interesse questa cosa a parte che appunto con questa idea si possono fare un sacco di cose non è detto che sia proprio solo una funzione eccetera si possono fare le cose anche molto molto coraggiosi tipo tipo dei rezzer cioè si può fare rezzer che magari a seconda di quello che uno scrive rezzino un ambiente piuttosto che un altro delle ambientazioni diverse infatti questo è un oggetto è un qualche cosa che è molto quotata in second life e tra l'altro vengono venduti cose del genere a caro prezzo cioè le vendono anche da 3.000 4.000 linden dollari che comunque non sono noccioline però in effetti vabbè poi alla fine anche io le ho comprate perché poi alcune di queste cose qua hanno anche delle comodità di utilizzo che sono interessanti però in realtà sono tutte cose che volendo almeno nelle parti più semplici possono essere anche fatte da soli insomma senza bisogno su open sim non c'è un bisogno disperato di rezzer perché i primi non sono un problema no? quindi di solito in second life si usano i rezzer perché non conviene avere 6.000 primi tutti tutti rezzati quindi magari si dice adesso ho bisogno soltanto di quei 300 primi e poi ne ho bisogno degli altri ah una cosa notevole che volevo dirvi voi potete anche mettere nell'inventory in teoria anche degli oggetti cosiddetti combinati coalesced lo sapete quali sono gli oggetti coalesced? falto coalesced credo che in italiano non mi ricordo più come sono stati tradotti in inglese si chiama coalesced vuol dire che sono tutti uniti allora prima abbiamo visto che c'erano dei cubi rifate seguite con me allora prendete rezzate sempre tre cubi ad esempio ok? allora questi tre cubi li selezionate con lo shift tutti e tre e poi invece di fare il link di questi oggetti fate il take o il prendi come lo chiamate allora facendo in questo modo nel vostro inventory vi compare un oggetto con un'icona diversa vedete che sono praticamente sono tanti cubi sovrapposti lo vedete? allora questo oggetto qua con i cubi sovrapposti che avete preso se lo rezzate quindi se lo tiro fuori dall'invento e lo metto per terra mi ricompaiono i tre cubi originali ma non sono linkati sono sempre separati questo è un sistema ah ecco una cosa tra l'altro quando ho parlato prima di linked set ah ok allora è possibile prendere un insieme di oggetti vari no fai il take cioè praticamente tu selezioni i tuoi tre cubi edit shift click shift click poi fai tasto destro su uno di questi e poi fai prendi lo prendi lo prendi come se fosse un oggetto solo ma in realtà sono tre oggetti esatto questa è una tecnica per salvare degli oggetti senza che siano collegati fra di loro e qui non c'è più il vincolo dei 255 anche se c'è da dire che in open sim a dire il vero il vincolo dei 255 non c'è comunque infatti quello è uno dei vantaggi di open sim quindi se voi provaste a collegare insieme 300 cubi dovrebbe lasciarvelo fare magari ve lo lascio come esercizio invece in second life visto che ad esempio non si possono collegare più di 255 il metodo dei coalesced a volte viene usato per fare una specie di equivalente quindi io posso fare una casa composta da 1500 prim poi la salvo coalesced e la metto in un retzer e poi a retzer gli dico di retzare il coalesced object perchè coalesced object una volta che lo mettete dentro l'inventory dell'oggetto avrà un nome a sua volta e quando lo retzate lui retza tutti i primi necessari ok allora io direi che per questa serata se non avete qualche altra domandina dovremmo essere a posto poi per la prossima volta vediamo un po' se riusciamo ad affrontare altri argomenti per esempio c'era c'era poi tutto il discorso dell'animazione che avevamo iniziato con poi tra l'altro purtroppo vedo che nella lezione del mercoledì non c'è giliola perchè mi sa che il mercoledì c'era sempre impegnato non so un'idea se non dico quella si vuole fare veramente potrebbe essere anche quella magari di fare questo ciclo di lezioni in un altro orario in maniera tale magari da la possibilità anche a giliola di partecipare comunque ci sentiamo sul skype che vedete tra altre cose stasera ci ha salvato dal dal voce poi ripulite dalle vostre cose prima di andarvene via si 1,2,3 io sto parlando mi sentite? vabbè comunque ho finito ok ok chiudo tutto e arrivederci ciao grazie ciao ciao